A me è l'arduo compito, dopo i relatori che hanno parlato prima di me, ma anche il compito facilitato di parlarvi del centro di riabilitazione integrato a San Cresci. Sono molto contenta che ci siano due persone che volevamo ringraziare, sì lo facciamo anche se mi fa gli occhi grandi, che sono la dottoressa Piazzi, la dottoressa Pavarelli che è di là, ma anche e soprattutto anche la lungimiranza di Gianfranco Ferilli che ha fatto una grande scommessa all'interno di questo congresso. Forse una scommessa che quest'estate Francesca Ferilli avevamo già iniziato a discutere rispetto ai nuovi progetti che come Senaf e lei nella sua persona sta portando avanti proprio nell'ambito della prevenzione e della fitocosmesi. Qual è questa grande scommessa? La grande scommessa è essere lungimiranti. La lungimiranza è alla base dei nuovi progetti sanitari che devono nascere nel contesto storico ed economico e sociale nel quale noi stiamo vivendo. Ed ecco la grande opportunità di parlarvi di un centro di riabilitazione integrato. Quando noi parliamo di riabilitazione noi non intendiamo soltanto rendere nuovamente abili, ma la possibilità di utilizzare e valorizzare al meglio il potenziale individuale. Questo perché? Perché l'evento traumatico o l'evento traumatico medico o effettivamente fisico crea che cosa? Un rallentamento e una battuta d'arresto. Noi possiamo leggere questo come l'inabilitazione di un essere alla sua funzione individuale e sociale oppure possiamo leggere questo e i relatori precedenti mi hanno aiutato moltissimo in questo nella capacità di aiutare una persona a creare un'opportunità per la sua crescita e per l'acquisizione di nuove abilità. E quindi l'evento traumatico da evento battuta d'arresto diventa la chiave di omeostasi a 360 gradi di una persona che riesce a cogliere dall'evento che gli è accaduto l'opportunità di cambiare completamente un modo di vedere, un modo di esistere, un modo di relazionarsi e un modo di reinserirsi nel tessuto sociale. Perché? Perché normalmente quando noi pensiamo in termini deterministici o comunque di medicina tradizionale, vuoi per i tempi, vuoi per le strutture, vuoi per gli eventi stessi, trauma e dolore cronico rappresentano una distruzione sistematica del sé che è già inabilitato. Perché? Perché la persona che si trova deprivato delle proprie funzionalità, che queste siano fisiche nel senso di perdita di funzioni del corpo o neoplastiche, utili spediamo dopo, vive una situazione a catena, a cascata. Cioè non c'è solo la perdita di quel momento dell'acuto, ma step by step, gradino per gradino, momento per momento, viene costantemente destrutturata. Destrutturata dal sistema sociale che non è più in grado di accoglierlo per le funzioni che è in grado di fornire. Destrutturato perché non si riconosce più in quella che è la sua identità. Destrutturato perché il dolore e il trauma gli impediscono di vedere l'essere umano se stesso come portatore di un dono, di un valore aggiunto. E questo, scusate, lo vediamo benissimo nella neoplasia e nell'ictus. L'aspettativa di vita è questa, è la nostra esperienza, la mia esperienza più nella struttura pubblica. ci dice che è vero che nella medicina tradizionale noi riusciamo a contrastare di più patologie che in passato erano mortali, ma a discapito della qualità di vita che offriamo al paziente. Allora, dall'altro lato, quella che è la nostra esperienza invece nel percorso delle medicine sinergiche e della medicina integrata, ci siamo resi conto e ormai la comunità scientifica mondiale, ce lo sta dimostrando con degli studi efficaci ed efficienti, che le sinergie terapeutiche riducono gli effetti collaterali, perché ricordiamoci che queste patologie una volta mortali stanno diventando patologie croniche che generano a cascata effetti collaterali, terapia correlati e morte, perché non si muore più del tumore e quindi la statistica migliora. Ma di cosa si muore? Degli effetti collaterali, quindi è fuori statistica, ma tu sei morto. E se non è una morte fisica, è sicuramente una morte emotiva, perché entri in uno stato di inerzia per cui tu non esisti. E alla base dei bisogni fondamentali dell'uomo c'è esistere. Io esisto. Quindi la sinergia terapeutica riduce gli effetti collaterali, velociza la riabilitazione. Perché? Perché noi mettiamo le nostre conoscenze di esperti diversi nella materia a disposizione dell'ottimizzazione del sistema uomo, non del sistema arto perso, massa tumorale rimossa con problematiche correlate, non di funzionalità perse per un ictus e quindi per un evento neurologico debilitante. Noi velocitizziamo la riabilitazione perché quel sistema uomo per noi diventa a livello individuale e profondo un'entità aurea, verso la quale noi mettiamo tutte le nostre competenze in sinergia a favore di quell'unico prezioso individuo, che per noi è il centro, non un numero, non una cartella clinica, ma non per cattiveria del sistema, perché credo che la più grande frustrazione che noi viviamo, e Chiara credo che mi può aiutare in questo senso, visto che lo viviamo quotidianamente in reparto, è quello di non avere tempo, spazi, strutture per poterlo fare. E quindi noi ci bruciamo all'interno delle strutture pubbliche, andiamo in burnout, proprio perché non abbiamo questo, perché ne abbiamo la volontà. Iniziamo con questo spirito, iniziamo con questa voglia, ma poi non riusciamo a portare a casa il risultato, perché non abbiamo la struttura adatta. E quindi, che cosa succede? Miglioriamo la qualità della vita e il vissuto soggettivo dell'evento malattia. Ma come funziona, come far funzionare un progetto del genere? Quali sono le basi per questo progetto? Perché abbiamo visto che nella struttura pubblica, per come in Italia, oggi noi abbiamo le strutture, a parte alcune cillenze, a parte alcune stupende perle che abbiamo a disposizione, ma noi dobbiamo andare a tutti, non a una piccola enclave. Dove? Noi dove dobbiamo creare questi luoghi? In quello che, a prescindere dalla nostra cultura, dalla nostra stazione sociale, dalla nostra provenienza, è il nostro liquido amniotico di base, la natura. Perché? Perché la natura ci dà quelle informazioni vibrazionali, e vedremo dopo meglio, che riescono a fare spazio e a sostituire le informazioni inabilitanti. Quindi noi, inserendoci nel contesto della natura, andiamo a riacquisire a livello profondo, cellulare, perché ricordiamoci che la nuova medicina è una medicina cellulare. Non è più il nucleo della cellula, il cuore, è la membrana. Il vero cervello del nostro corpo è la membrana cellulare, ed è l'unica che riesce a comunicare in maniera esatta con frequenze e vibrazioni. E quelle frequenze e vibrazioni esatte, che sono il nostro reale nutrimento, sono nella natura. E, prescinde dal nostro, credo, psicologico, spirituale, emotivo, ambientale, è universale. Jung lo chiamerebbe l'archetipo universale. Ma come lo facciamo? Beh, non abbiamo deciso di fare un progetto di quattro amici frustrati che si trovano al bar. Abbiamo deciso di fare un progetto ambizioso. È un progetto piccolino in apparenza, ma noi sappiamo che le sostanze più piccole sono quelle più preziose. Possono essere le più velenose, ma anche le più preziose, le più nutrienti, le più fondamentali per il cambiamento. E allora cosa facciamo? Coniughiamo la più evoluta delle scienze, quindi tutta la scienza che studia la membrana cellulare, la fisica quantistica e quant'altro, e la colleghiamo a quello che loro stanno dimostrando con gli strumenti necessari per la nostra società in questo momento, per il riconoscimento di qualcosa, da quello che da millenni è stato osservato da chi nella natura ci ha vissuto e ha tratto da lì le istruzioni di base, il codice, per il benvivere, ma anche per il ritrovare la salute. Se noi osserviamo la natura e mi riaggancio a quello che diceva anche Milena e quelli che sono molti dei progetti che sono portati avanti, sia nell'antroposofia che nella naturopatia e quant'altro, gli animali quando stanno male, stanno fermi, riposano, non mangiano, chi ha un gatto, chi ha un cane l'avrà visto, si fermano e stanno in un luogo speciale all'interno della natura che per loro è la chiave, l'evento della rinascita. Cosa fanno? Fanno qualcosa di strano? Fanno qualcosa di alternativo? No, fanno esattamente quello che il codice vibrazionale interno, insito nel DNA ancestrale, gli sta dicendo. La nuova medicina, la medicina scientifica, quantistica e quant'altro, ci dice che la membrana cellulare per riuscire a ricreare il giusto dialogo all'interno del corpo ha bisogno delle frequenze di base, le frequenze fondamentali e originarie. Ecco, quindi che cosa genera questo? Crea fluidità nell'informazione intracellulare, crea spazio per l'inserimento di un'informazione attraverso il recupero della conoscenza di sé profonda e quindi la riacquisizione delle potenzialità bloccate dall'evento. Volevamo la scienza, la scienza efficace, la scienza effettiva? Benissimo, partiamo dall'NGF, Neuron Growth Factor, cioè il fattore di crescita neuronale, dimostrato dalla nostra amatissima Rita Levi Montalcini e poi portata avanti da vari studiosi nel mondo. Quello che era un dogma della scienza, ecco perché diciamo, la nostra esperienza è quello di coniugare una medicina avanzatissima con una conoscenza millenaria. Un dogma della medicina era che il tessuto nervoso non potesse riprodursi, soprattutto che una volta acquisito noi andassimo solo nella direzione di perderlo. Invece no, la plasticità neuronale ci dice che il sistema nervoso può essere modificato dall'esperienza, sia in termini funzionali, quindi di variazione della quantità del neurotrasmettitore e qui entriamo nel bellissimo campo di tutta la trasmissione dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, quindi tutta la regolazione ormonale del nostro corpo e quindi tutta la segnalazione all'interno del nostro corpo, sia in termini di istruttura, quindi di vie, quelle che vengono chiamate le pathway, cioè tutte quelle connessioni neuronali che si formano a prescindere e in funzione dell'esperienza che abbiamo fatto. Dico a prescindere, perché queste connessioni neuronali sono quelle che generalmente ci fanno reagire alle situazioni invece che agire in funzione delle situazioni quando sono precostituite da altre all'esterno. Quindi nel momento in cui noi siamo di fronte a un paziente che apparentemente ha perso un'abilità, in realtà siamo di fronte a una grandissima opportunità, perché siamo su una terra nuova sulla quale noi possiamo costruire delle nuove vie e quindi sostituiamo l'informazione inabilitante, la inseriamo in un contesto nutriente e qui torna tutto quello che hanno detto i miei colleghi precedenti, torna l'aspetto dell'alimentazione, torna l'aspetto del colore, l'aspetto della natura, dello stare, del camminare, l'aspetto delle terapie manipolative, l'aspetto dell'agopuntura, del qigong, del cancelling, della procurazione neurolinguistica. Questo genera i primi germogli, lo sprouting, e da quei germogli, attraverso queste tecniche che ormai nella nostra esperienza sono assodate, perché fanno parte del nostro bagaglio quotidiano, si riescono a creare delle nuove connessioni che sono finalmente efficaci e durature. E quindi, torniamo al mio ultimo collega, relatore che mi ha reso facilissimo il compito, le percezioni sensoriali e i movimenti fini impregnano l'esperienza corticale. Quindi noi abbiamo capito qual è il nostro nutrimento. Quindi se noi lavoriamo con la luce, il suono e il tatto, mettendo assieme tutte queste tecniche, noi realmente riusciamo a dare un supporto efficace ed efficiente dalla persona che ha perso un arto e deve riabituarsi ad una nuova protesi, fino alla persona che invece ha perso un pezzo del proprio corpo per un tumore o che viene mangiata dentro da questo, o che non sa più camminare o parlare perché ha avuto un ictus, o tantissime altre patologie di tipo cronico e banalmente anche una semplice lombalgia, che però è uno dei maggiori cause di assenza dal lavoro e di riduzione della socialità delle persone. E qui viene una chiave importante della lungiminanza di cui parlavamo prima e di questo invito che abbiamo ricevuto all'interno di Expo Sanità. Expo Sanità nasce anche come una risposta in tempi di spending review di sanità efficace ed efficiente. Benissimo. All'interno di questo una spending review può essere un blocco, situazione inabilitante, o può essere un'opportunità. Un'opportunità in cui non si scelgono più a caso le cose, ma si scelgono in base alla loro efficacia ed efficienza. Quindi i percorsi sinergici che entrano in un trattamento di tipo sanitario tradizionale, perché San Cresci si pone tra i suoi grandi obiettivi quello di diventare un'alleanza per le strutture pubbliche e quindi creare progetti di convenzione reali in cui si dialoga a due voci, cioè noi con la struttura e la struttura con noi e quindi in maniera molto più ampia, non in maniera unidirezionale. E questo mette il trattamento di tipo sanitario tradizionale con le discipline complementari e che hanno naturalmente dimostrato a livello internazionale evidenza scientifica ed impatto economico più ridotto. In questo senso c'è un bellissimo articolo del 2011. Prego. Quindi il paziente che arriva da lei è sotto terapia farmacologica? Allora, può essere che è sotto terapia farmacologica. Il dolore. Esattamente. Proprio nell'idea di creare un progetto sinergico e individuale, chi arriva a San Cresci e chi arriva all'interno del progetto di San Cresci avendo a disposizione veramente un team multidisciplinare molto ampio con esperienza su tutti i versanti, può venire con una richiesta specifica e con un suo bagaglio specifico che può essere il farmaco tradizionale, tradizionale, il farmaco alternativo. In questo senso c'è una bellissima esperienza ma magari poi nelle domande se ci sarà spazio lo amplieremo in cui negli Stati Uniti, in alcuni stati per esempio ricordo quando ero alle Hawaii dove è previsto moltissimo la sinergia tra le due medicine che i pazienti che ero con me una collega che aveva subito recentemente un intervento chirurgico per un carcinoma del fegato lei aveva la sua tessenina sanitaria è stata strisciata in questa sono stati inseriti tutti i farmaci che prendeva ma anche tutta la medicina fitoterapica e tutti i supporti che ha ricevuto. L'ospedale ci ha accolto durante la notte ha fatto l'idratazione perché in questo caso aveva bisogno di idratazione importante perché aveva deciso di viaggiare purtroppo anche non in condizioni ottimali ma voleva partecipare a questo esperimento che poi oggi la rende viva nonostante siano passati 12 anni e quando i medici dell'ospedale di Hawaii hanno visto che aveva anche fatto un percorso di terapia di fitoterapica gli hanno detto guarda adesso noi ti facciamo il trattamento d'urgenza la tua assicurazione rimborsa anche il resto domani mattina arriva il collega che si occupa anche della parte fitoterapica dopodiché siccome qui stai praticando anche qigong eccetera c'è una stanza apporsa all'interno del reparto dove tu sarai collocata dove tu puoi praticare tutte le ore del giorno che desideri ecco questo mi è sembrato un progetto straordinario infatti nella nuova frontiera della medicina quello che si sta facendo e stanno vedendo anche diciamo nella medicina più tradizionale è l'associazione sinergica dei farmaci che sono potenzianti anche loro si sono resi cioè anche loro anche diciamo la farmacologia diciamo più ortodossa si è resa conto che se non gioca che se non lavora con le sinergie non ottiene lo stesso risultato che si va che si andava ponendo dicevo di questo articolo ma poi andiamo avanti dove proprio c'è una dimostrazione in termini di cost effectiveness quindi proprio di sanità pubblica che i general practitioners i medici di medicina generale che curavano i pazienti affetti da lombalgia che visto anche le condizioni climatiche e quant'altro in Gran Bretagna sono uno degli eventi maggiori di perita di giorni di lavoro dicevano i medici che offrono un percorso integrato migliorano sostanzialmente l'outcome del paziente ma soprattutto la spesa pubblica assolutamente noi vediamo infatti noi abbiamo visto che vabbè il 25% della popolazione in Gran Bretagna ma sta aumentando usa la medicina complementare 50% in Germania 50% in Francia 50% in Australia ma a me interessa farvi vedere questo dato dal 42% siamo arrivati al 69% negli Stati Uniti perché? perché ci sono delle indicazioni chiare sulla rimborsabilità dell'assicurazione quindi cosa succede? abbiamo visto qual era il target che ci è stato già brillantemente spiegato ma noi cosa possiamo cambiare con un progetto di riabilitazione integrato e di prevenzione perché riabilitazione è fortemente legato a riabilitazione cambiamo il target cioè andiamo a prendere soprattutto attraverso i programmi di convenzione le persone che culturalmente ed economicamente non se lo potrebbero permettere normalmente ma non solo le persone che sono state ospedalizzate in passato e che arrivano alle medicine complementari perché non sanno più a che santo votarsi in un progetto di riabilitazione integrato diventano una chiave fondamentale per fare salute sulla lunga distanza perché? perché chi arriva in un centro di riabilitazione integrato impara uno stile di vita e diventa portatore testimone di quello quindi a fronte di una risposta in acuto lui sulla lunga distanza andrà a cascata seminare stile di vita e opportunità in un tessuto sociale che noi non riusciremmo oggettivamente ad andare a toccare quindi noi andiamo a cambiare il target lo ampliamo e lavoriamo proprio nella dimensione di far spendere meno alla nostra sanità pubblica perché abbiamo meno persone che si ammalano guariscono prima la Toscana è una prepista e lo sappiamo qui c'è un esempio delle prescrizioni che la Toscana fa e che rimborsa e vi metto soltanto una chicca che esiste dal 97 ecco perché vi ho portato il dato degli Stati Uniti dall'NIH cioè l'Istituto Nazionale della Salute Americano e adesso vi ho portato la gupuntura ma non vi volevo mettere 10.000 diapositive questo vale sia per la naturopatia ma vale anche per la meditazione lo yoga il tai chi il qigong eccetera dà come riconoscimento dal 97 in una consensus che questi tipi di terapia funzionano sono efficaci ed efficienti quindi sono un'indicazione alla rimborsabilità vuol dire che è un sistema sanitario che si fonda sull'economia spicciola sta rispondendo dicendo ragazzi questa cosa funziona ci fa spendere meno e ci dà una qualità di vita più alta BMJ e qui mi collego a quello che diceva la signora con la quale interagito io mi chiamo Rosalia e ok Loredana dottoressa Marco allora il BMJ che voglio dire è uno dei capisaldi della nostra medicina evidence based medicine visto che ci piacciono gli inglesismi dice la medicina integrata non si limita soltanto a insegnare ai medici a usare le erbe invece dei farmaci si tratta di ristabilire e recuperare dei valori fondamentali che sono stati affondati da modificazioni sociali e interessi economici la medicina integrata è la medicina corretta stiamo parlando di integrata le due medicine che si incontrano e il suo successo sarà segnalato dalla perdita dell'aggettivo integrata e dalla sua identificazione col termine medicina con la M maiuscola invece che medicina con la M minuscola quindi non avremo più il cugino povero di campagna e lo zio d'America ma avremmo due grandissime strutture ognuna con le sue straordinarie capacità straordinarie potenzialità che ad altissimo livello inizieranno a dialogare insieme per fare la differenza infatti ci si auspica che la medicina integrata sarà la medicina del nuovo millennio ecco quindi che il progetto SanCresci e la nostra esperienza multidisciplinare ci dà l'opportunità di lanciare una grande sfida cioè passare da tecnica della guarigione che definisce dolore malattia guasti di una macchina a cultura della guarigione dove per considerare insieme al corpo anche la dimensione antropologica emozionale sociale dell'essere umano ecco quindi che cambiamo radicalmente la prospettiva nella quale l'essere umano inabilitato che sia per un arto che sia per una neoplasia che sia per un ictus per una depressione che sia qualunque alta le patologie croniche eccetera per noi diventa una opportunità straordinaria di cambiamento radicale nella persona e nell'intero tessuto sociale voglio farvi una premessa prima di farvi leggere il resto che vi leggerò di noi eh dimmi molti di noi che sono in questa sala non solo sono amici ma sono colleghi che lavorano insieme che condividono insieme questo grande progetto nascono da esperienze diverse ma che in fondo hanno trovato veramente un filone comune questo filone comune è l'essere umano l'essere umano nella sua dimensione più splendida più bella un giorno camminando con Roberta quando poi ti ho detto ti devo dire una cosa ti devo dire una cosa poi non te l'ho detta naturalmente perché abbiamo tremila cose sempre da raccontare camminando nei boschi di San Cresci quando siamo andati su a Santa Margherita dove ci sarà anche un osservatorio tra le querce secolari c'erano dei maggiociondoli profumati bellissimi incredibili magnifici e mentre ero lì mi appoggio perché è esattamente quello che è successo mentre ero lì mi sono appoggiata a uno di questi alberi e ho visto un'immagine che mi ha veramente commossa ho immaginato che sotto una di queste bellissime querce accompagnati dal profumo del maggio ciondolo ci fossero due persone straordinarie che noi amiamo molto Tiziano Terzani e Confucio e abbiamo immaginato che loro fossero lì con noi e facessero un dialogo un discorso un auspicio a questo progetto e a tutte le possibilità che può fare allora Tiziano dice a Confucio mio caro maestro mi piace pensare che i problemi dell'umanità potranno essere risolti un giorno da una congiura di poeti un piccolo gruppo che si prepara a prendere le sorti del mondo perché solo i poeti ormai solo la gente che lascia il cuore volare alto che lascia libera la propria fantasia senza la pesantezza del quotidiano è capace di pensare diversamente ed è questo di cui avremmo bisogno oggi caro maestro pensare diversamente Confucio lo guarda e dice caro figlio mio caro amico se pensi in termini di anni beh allora pianta un seme se pensi in termini di decenni allora pianta degli alberi guarda quanto sono belli questi alberi ma amico mio se pensi in termini di centenni allora sì fai una cosa straordinaria e grandiosa insegna alla gente grazie